Ciao a tutti, oggi è il 2 di mezzo, ho deciso di mostrare come fare penne con salmone, un piatto tradizionale italiano. I ingredienti per tre persone sono un salmone per ogni persona, circa 240 grammi di pasta, un po' di crema per rinforzare e un teaspoon per il colore di pasto di tomate. Quindi bisogna rinforzare, se hai la pelle, la pelle del salmone, questo è quello che sto facendo, e poi lo faccio in piatto in piatto, come un po' di butter, come un teaspoon o un teaspoon. Ora aggiungo il mio salmone, nella stessa volta aggiungo un po' di acqua, perché bisogna avere la pasta preparata. Ora aggiungo il mio salmone, ora puoi aggiungere un po' di acqua. Per questa salsa potete anche usare un po' di acqua, potete mixare, potete aggiungere un po' di acqua. Ma in questi tempi, ho avuto anche l'unico di trovare il salmone, un po' di acqua. Quindi è ok. Time per la seasonazione. Il mio salto, come sempre, il mio petto. E se hai, un po' di brandy. Se l'acqua si è coglia, ancora, ho messo la pasta. Quindi, una volta che il brandy si evapora, ho il mio pesto di tomato. Come ho detto, puoi anche evitare questo, solo per la colore, perché ci darà un colore pinko. e la crema. Questo, di nuovo, è una cosa di gusto. In casa, i miei figli qui amano crema, quindi ho messo un po' di crema. Quindi, non sono felice con il colore qui. E qui, aggiungerò un po' di più di questa pasta di tomato, perché voglio più pinko. Quindi, la ricetta originale è sempre penne. Penne rigate. Io uso Rummo, ma puoi usare di qualunque. Il Rummo prende circa 11-12 minuti per cuocere. Quindi, provo a misplirlo. Quindi, è il momento per farlo. Aggiungerò la salsa. Aggiungerò la salsa. Aggiungerò. 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 Aggiungerò la salsa. Aggiungerò la pasta. Aggiungerò la pasta. È ora di mettere sul piatto. Ora, mettere in centro. Per favore, non mettere parmesano in questo. È illegale in Italia. Noi.